Incentivi aziende nelle attività produttive sono stati molto importanti gli aiuti che vengono dallo Stato e dalle regioni. Dati dell'occupazione a Catania, uno spaccato dello Stato economico della città etnea, tornare a crescere le possibilità della nostra industria e altri settori produttivi. Cereplast, Umbria, energie innovative nella regione, un'opportunità per lo sviluppo nel risparmio. Industria artigianato, crescita dell'industria lombarda seppure a piccoli passi. Ben ritrovati gentili telespettatori con questa edizione del nostro telegiornale. Recentemente il Ministro Tremonti si è detto pronto a varare alcuni provvedimenti in materia fiscale che concederebbero sgravi alle imprese che vogliono investire in Italia. Soprattutto gli sgravi sarebbero di natura finanziaria. L'idea, dice il Ministro, è di rendere attrattiva l'Italia per le aziende prendendo spunto dal caso Irlanda che vanta un regime fiscale di assoluto vantaggio. Il servizio. Un regime fiscale di favore per attrarre le società internazionali della finanza Milano o le aziende manifatturiere nel sud Italia, garantendo il regime fiscale del paese di provenienza anziché quello italiano, solitamente poco incentivante. È una delle norme contenute nell'ultimo decreto sviluppo per rilanciare l'attrattività del sistema Italia agli investimenti esteri. Il Ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, la spiega così. La possibilità di attivare in Italia imprese portandosi dietro il regime fiscale che hanno in un altro paese europeo. È stata malintesa, è stato detto, riguarda solo Milano. No, riguarda tutti quelli che vogliono portare da fuori in Italia un tipo di attività e con questo un regime fiscale. Ma la norma serve anche come richiamo per quelle imprese italiane che si sono trasferite all'estero per beneficiare di regimi fiscali più favorevoli. La struttura delle economie delle varie zone in Italia potrà così attrarre le imprese internazionali più adatte. Io spero che serva soprattutto per il Sud. È certo che ciascuno porta, come dire, o attrae le cose che sono più adatte all'economia che c'è. E quindi per l'economia meridionale uno immagina forme di economia, di attività diverse da quella finanziaria pura che è stata a Milano la piazza finanziaria. Ma per il Sud moltissimo altro può venire. Il decreto si punta anche alla ricerca. Con il credito d'imposta per la ricerca nel 2011 e 2012 ci saranno maggiori investimenti per 275 milioni l'anno che dovrebbero concentrarsi soprattutto nel capoluogo Lombardo. La particolarità di questa città è anche la ricerca e introdurre un credito d'imposta per la ricerca abbattendo per la prima volta il muro che c'era tra l'industria, tra le imprese e l'università finanziando via credito d'imposta le ricerche che l'industria fa nelle università è una cosa che credo di grande rilevo per tutti i paesi e certo anche per Milano. I dati occupazionali nella città di Catania nella provincia siciliana passati al setaccio con risultanze non molto incoraggianti come vedremo. La situazione del lavoro in Sicilia è veramente drammatica stando ai dati diffusi dall'IRES l'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali. Sentiamo Giacomo Rota, segretario confederale CGL Catania. I dati sono veramente sconfortanti. Ci dicono che abbiamo 6.000 occupati in meno quest'anno rispetto all'anno scorso, 12.000 in meno rispetto all'anno precedente. Ci consegnano un calo significativo di circa 5.000 persone in meno rispetto all'impidap, quindi pubblici dipendenti. Ci dicono che c'è il dilagare della perdita del lavoro pubblico e ci consegnano le situazioni anche nel comparto della scuola, della formazione e della ricerca che si va sempre più precarizzando. I tagli della Gelmini vanno a buon punto privando le nostre scolaresche di insegnanti, aumentando le classi a più di 30 studenti e mettendoci in una condizione veramente preoccupante per il futuro dei giovani. Quali potrebbero essere delle soluzioni a vostro avviso? Intanto bisognerebbe immediatamente comprendere che occorre investire nella formazione, nella ricerca, nell'università e nella scuola pubblica. Quindi smettere di tagliare, invertire questa tendenza, fare come hanno fatto tutti i paesi sviluppati ed europei durante la crisi. Hanno investito dove noi abbiamo invece tolto risorse. Questo provocherebbe un'immediata inversione di tendenza. Poi bisognerebbe sbloccare i lavori pubblici, bisognerebbe mettere in sicurezza le scuole e gli edifici pubblici. Questo provocherebbe un aumento del lavoro in edilizia e indescrirebbe un fenomeno certamente virtuoso. E poi bisognerebbe avere finalmente il coraggio di dare all'agricoltura il peso che merita, chiudere la filiera dell'arancia rossa, consentire alla forestazione la sua vocazione produttiva. Bisognerebbe in realtà mettere mano seriamente allo sviluppo di questa nostra terra, partendo anche da quella famosa Etna Valley, dall'ST, dalla Micron, da tutte quelle importanti aziende che sentono ancora il bisogno di attenzione dal pubblico. Rappresentanti istituzionali nel panorama imprenditoriale italiano a confronto sulle riforme necessarie per lo sviluppo delle imprese, dell'innovazione, della tecnologia e della ricerca, della crescita industriale, la digitalizzazione della pubblica amministrazione e le positive ricadute sul mondo delle imprese. Sviluppano il mercato e il lavoro delle politiche nel welfare. Tutto questo nel servizio che segue. Riforme per ritornare a crescere. Le proposte per agganciare la ripresa sono state al centro della tavola rotonda con il governo, promossa da Business International, che ha visto confrontarsi presso il complesso monumentale di Santo Spirito in Sassi a Roma, oltre che ministri e rappresentanti delle istituzioni, imprenditori, sindacati e manager. In apertura dell'appuntamento annuale, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentanti delle istituzioni e del panorama imprenditoriale italiano, hanno ribadito la necessità di riforme per aiutare le piccole e medie imprese a uscire bene dalla crisi. Non è possibile che in una realtà composita come quella italiana, se ne parla con un piccolo commerciante, con un piccolo artigiano, con un piccolo imprenditore di qualsiasi tipo di rama d'azienda si occupi, stia tranquilla che la prima cosa che le chiedono, perché le banche aiutano sempre i soliti e mai chi come imprese, certamente certificata dal punto di vista della legalità, di essere sane e quant'altro, ci frappongono sempre un altro che ostacolo. Noi su quell'argomento stiamo cercando di andare incontro, anche a una diminuzione di tempi, perché in un momento di crisi la piccola e media impresa non può certamente pagare il costo e essere anche beffata alla fine. A lanciare un appello al governo per intraprendere azioni concrete è Pierluigi Brienza, amministratore delegato di Deluat Consulting. Secondo me il governo deve migliorare la spesa pubblica, deve migliorare l'efficienza di quella che è la macchina della pubblica amministrazione. Ci sono già una serie di riforme lanciate, la riforma brunetta, quella della digitalizzazione sulla pubblica amministrazione, vanno realizzate. Non aiuta la ripresa il fatto che l'Italia investa poco in ricerca e innovazione, solo l'1,1% del PIL. Quale può essere l'azione del governo per spingere l'acceleratore sull'innovazione? Attuare degli incentivi fiscali, degli sgravi che possono permettere alle aziende ritornare a fare dei giusti margini, dei giusti profitti e che siano anche motivata di investire in quella che è l'innovazione. Intanto il governo, con il ministro delle infrastrutture Altero Matteoli, assicura di avere in cima alla lista delle priorità opere pubbliche ormai indispensabili. La Salerno Reggio Calabria è una sicuramente di queste priorità. La Civitavecchia, Livorno, Cecina, l'attraversamento della Fano Grosseto, oppure per quanto riguarda le linee ferroviarie, la Napoli-Bari, la 106 Onica, sono tutte opere che sono attese da tempo e che finalmente sono partite. Alcune di queste sono anche in larga fase di costruzione. Proprio nel settore dei trasporti, anche ferroviari, la liberalizzazione è alle porte. L'Europa è sempre più unita. La politica dell'Unione Europea è quella di creare un singolo mercato europeo, abbattendo i confini nazionali. Questo lo si sta facendo in due modi. Da un lato con la tecnologia, la famosa interoperabilità, e dall'altro con delle regole comuni del gioco. Il prossimo servizio riprende il tema delle energie alternative in un quadro di riferimento molto importante, come quello della Regione Umbria. Ecco, sostenibilità è la via dello sviluppo economico dell'Umbria, nella quale in tanti ripongono la speranza di poter superare la crisi attuale. Per questo, alla presentazione della nuova filiale a Cannara dell'industria americana Cereplast, c'erano tutti i rappresentanti del mondo economico regionale, oltre alle istituzioni. A parlare dell'acquisizione dell'area dell'ex Ferro Italia, dove sorgerà il sito, grazie ad un bando di sviluppo Umbria, è stato il mega manager, Frederick Scher. Le persone mi chiedono, ma perché l'Italia? E perché l'Italia? Per questa ragione. A voi italiani, e specialmente sia il governo italiano che il parlamentare italiano, avete passato una legge che aiuta veramente la bioplastica. Noi come industria, e poi naturalmente come Cereplast, abbiamo sentito il messaggio. L'area è costata 4 milioni di euro, e sul tavolo ce ne sono inizialmente altri 12 per gli investimenti nei prossimi tre anni. Lo stabilimento sorgerà in 12-14 mesi e troverà spazio nell'area abbandonata otto anni fa dalla Ferro Italia. Permetterà la produzione a regime di 100.000 tonnellate di resine bioplastiche, arrivando ad impegnare 150 dipendenti tra addetti alla produzione, ricercatori e management. Vi si produrrà il compostabile, che è un materiale usa e getta biodegradabile in 60 giorni, e il sostenibile, di più lunga durata e maggiore resistenza, che è un ibrido tra il poliolifine e materiali rinnovabili, con l'obiettivo in pochi anni di arrivare a produrre una plastica con le stesse caratteristiche, che sia totalmente ecocompatibile. Le prime informazioni che noi abbiamo, stiamo parlando di 150 persone, più o meno, che vennerà assunto entro un paio di anni, direi. Noi andremo a fare le cose il più presto possibile, però pensiamo che abbiamo bisogno di un anno, un po' più di un anno, per avviare tutto il discorso. Si assesta la crescita della produzione industriale lombarda, che procede a piccoli passi, più 0,5 la variazione sul trimestre precedente, la variazione sulla base annua è del 7,5%. Per le aziende artigiane e manifatturiere rimane positivo sia il dato tendenziale, più 2,8, che quello congiunturale. L'occupazione è ancora in ritardo rispetto al recupero dei livelli produttivi. Si assesta la crescita della produzione industriale lombarda, che procede a piccoli passi. Più 0,5% la variazione destagionalizzata sul trimestre precedente e più 7,5% la variazione su base annua. Sicuramente la fase di ripresa sta continuando, purtroppo però con una crescita estremamente lenta. Questo caratterizza non soltanto l'economia lombarda, ma tutta l'economia nazionale. I dati sono quelli di un incremento della produzione, modesto, inferiore al punto percentuale, molto inferiore al punto percentuale, con una crescita del fatturato antrettanto modesta. Però a fronte di questi elementi, che comunque sono positivi, dobbiamo riscontrare un incremento dei prezzi delle materie prime, che incide in maniera significativa sulla marginalità delle imprese. Fenomeno che abbiamo già constatato nei trimestri passati, ma che purtroppo si sta aggravando. Anche gli eventi internazionali avranno il loro peso sul mercato. Diciamo che la scomparsa di Bin Laden non avrà grandi effetti, a meno che non ci sia una recrudescenza di attività terroristiche. Mentre invece sicuramente incidono sull'economia globale, sia la situazione di guerra civile, in alcuni casi, se non addirittura guerra aperta, che c'è nel mondo arabo, sia gli effetti del terremoto e del marremoto che ci sono stati in Giappone. Questi sicuramente hanno un'influenza sull'economia globale, così come i rischi del debito solverano di alcuni paesi. L'occupazione è ancora in ritardo rispetto al recupero dei livelli produttivi. Ci sono i primi timidi segnali di una ripresa dell'occupazione, però anche questa potrà essere trascinata soltanto dalla crescita. Abbiamo chiuso questa edizione del nostro telegiornale, il nostro sito vi ricordo estenews.it. Grazie e arrivederci.